La rappresentativa dei giornalisti Umbri si cuce ancora lo scudetto sul petto, quarta affermazione negli ultimi cinque anni con Capitan Federico Barontini ad alzare di nuovo la Coppa. L'Occhè, Agostini, Pierotti, Barontini, Angeli, Basilico, De Matteis, Sampogna, Catanzaro, Zaccagni, Billi, Checcarelli, Comodi, Porfiri e Marinelle, Andreoli, i protagonisti del trionfo della selezione guidata da Bencivenga con la collaborazione dei dirigenti Pisinic e Massoli. Un successo maturato nel triangolare di finale all'Acqua Cetosa presso il centro federale Giulio Nesti di Roma nell'undicesimo Memorial D'Aguanno, con l'Umbria che ha superato 3-0 il Triveneto con tripletta del top player Mauro Basilico, grande protagonista, insieme all'altro top player Luca Pierotti. Il regolamento consente infatti di schierare un massimo di due non giornalisti che abbiano militato fra i professionisti. Dopo il successo per 2-1 al fotofinish della Puglia sul Triveneto, ultimo atto fra Umbria e Triveneto appunto, Umbria ha subito in vantaggio con il solito Basilico, capocannoniere della manifestazione con 4 gol, prima di dover lasciare il campo per un infortunio. Nella ripresa l'Umbria tiene ma proprio nell'ultima azione Tangorra approfitta di uno svarione e entra in area finendo a terra a contatto con l'Occhè in uscita. L'arbitro assegna il rigore che lo stesso Tangorra trasforma, l'Umbria vede da vicino una beffa clamorosa, ma dagli 11 metri Pierotti, Billi, Zaccagni, Checcarelli e Barontini sono implacabili, mentre proprio Tangorra calcia alto il decimo rigore che consegna all'Umbria il quarto scudetto negli ultimi 5 anni. Per la rappresentativa Umbra ha anche la soddisfazione di veder premiato Lorenzo Billi come miglior giocatore del torneo.